Sono 350 i posti auto individuati in aree alternative, una quota ritenuta sufficiente per ovviare la perdita temporanea di parcheggi nella parte dell'area di risulta pescara e interessata dai lavori di bonifica in questa fase iniziale in vista della realizzazione del primo lotto su circa 7 dei 13 ettari complessivi destinati a riqualificazione per il parco centrale, un parcheggio multipiano a silos di 8.600 metri quadri a sud e il nuovo terminal degli autobus a nord-ovest. Dopo le proteste dei commercianti del centro città si è giunti dunque a una soluzione in tempi rapidi, anche se il sindaco Masci sottolinea come la dirigente stesse lavorando già prima che partisse la protesta per trovare una soluzione adeguata. Il nostro dirigente da oltre 15 giorni sta lavorando per individuare aree da poter mettere a disposizione per i parcheggi, il lavoro lo ha completato in una prima fase, oggi è venuto a mostrarci il risultato che ha ottenuto, parliamo di circa 350 posti auto, di cui 200 di nuova costituzione almeno e circa 150 con una tariffazione identica a quella del risultato proprio per permettere a coloro che hanno questa necessità di avere ulteriori spazi, quindi recuperiamo molti posti rispetto a quelli che sono stati persi per dei lavori che devono essere fatti perché stiamo parlando dell'area di risulta, stiamo parlando di un lavoro che si attendeva da 37 anni. Le aree sono tutte limitrofe all'area di risulta, tra queste anche quella di via Passo Lanciano dunque, mentre per il famoso mercatino etnico è in corso un'interlocuzione con RFI che su quell'area a competenza diretta, per avvalutare la possibilità di riservare quell'area esclusivamente ai suoi dipendenti, liberando così altri posti nelle aree vicine. Quali aree alternative avete individuate e se chi aveva l'abbonamento in quella zona dell'area di risulta per il parcheggio può utilizzarlo anche in queste aree nuove? Sì, assolutamente, abbiamo individuato delle aree intorno all'area di risulta, anche modificando la viabilità e fluidificando il traffico. In più abbiamo messo con la stessa tariffazione dell'area di risulta anche il parcheggio di via Passo Lanciano e tutti coloro che hanno l'abbonamento per l'area di risulta potranno utilizzare queste aree con la stessa tariffazione senza nessuna modifica. Quindi recuperiamo circa 350 posti che serviranno proprio per coloro che oggi hanno difficoltà a trovare il parcheggio nell'area di risulta.